Oggi siamo qui, e andremo a fare un nascondimento in manzana. Avete capito che è un posto abbastanza tempo di nasconderci, ma prima di tutto, con il mio vitello, vi faremo fare un tour del bagno, della stanza della stanza, della specie di salotto. Qua c'è il bagno, la lavatrice, perché non c'è la matriola, che è una volta, e lavandino, ok, poi qua c'è un divano grandissimo, poi c'è i soldi, poi c'è un sacco di mensole, una sciogatrice, una pasta, e un peluche gigante, e molti altri peluche, poi c'è una jimbole, una palla dell'Inter, ma da te noi ci chiamo l'Inter, però ci parlavamo anche la Juve, poi c'è il bigliardino, con l'Inter Midland, poi ci sono molti altri cubatti, molti altri cubatti, e poi ci sono degli armadi, con degli armadi, ok? Allora, andiamo a fare il nascondino, e inizia a contare il mio fratello, e di contare fino a 30, mi raccomando, eh? La dietro, e poi vedete dove andrà a portare, quello lì è il suo posto, quello lì, la dietro, la dietro, e poi andrà a contare, la dietro è il posto dove andrà a portare, fino a 30, mi raccomando, non barare, no, aspetta, fai fino a 20, e poi andrà, invitare, Fun. 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 Tutta la riga Possiamo vederlo correre là Lo vogliamo correre Io che ho detto Donna Ce l'ho fatta Sono pronta a contare Uno Vai Io devo contare fino a 40 Uno Due Tre 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 Grazie.